che mi hai fatto perdere l'attimo cazzo no ma è stato lui porco diavolo no ma già mi ha chiamato e niente è successo niente porca tratta oh ma io lo so già come sono le mie cose te mi devi lasciare stare ma torna fuori seduto sono stanco mi fai perdere l'attimo fuggente porca loca guardalo 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 preso da sotto c'è questo è un rischio peggio che giù nel torrente se non mette con la gamba ma volete che tiri di là il carrello la macchina può andare e ora giusto dai dai sono tutte ferite di guerra e ascolta è normale fai come hai fatto prima per favore dai su facci sognare come 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 mettiamo dentro anche questo allora già se non pulite via i sassi mi stai facendo girare la testa è finito il pirrona che mi gira la testa anch'io ti sto riprendendo ma non capisco più cazzo e non vale girare intorno tre volte oh facendo così lo deconcentro ma non ce la fai cazzo ma come cacchio è non ce la fai non ce la fai cazzo ma stanca ora si stacca faccia perché prima un po' non usa ancora qua esatto sempre là il carrello eh te non dirglielo eh no ma per quanto devi andare su ti dico ma è un po' devi dire la madonna la madonna come? come? io la madonna dai via a casa è un pirla non era il folle era lo zampi che ti era attaccato dietro come una cibia sei un pirla perché mi fai mi fai scomporre è un pirla eh era attaccato il parafango per quello che non andavi sei un pirla buona la prima anche io è coglione lo spava in te to lontano to lontanissimo Grazie a tutti.